Bentornati a tutti. Oggi è martedì, 21 maggio 2024. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo bilancia. Segno fortunato. Più sensibili e affettuosi grazie alla luna. Martedì tranquillo ma tutt'altro che piatto, in transito nel vostro segno la luna esalta la sensibilità, rendendovi più ricettivi alle tematiche che preferite, armonia, bellezza, giustizia. Niente da aggiungere riguardo al lavoro, tutto fila liscio con le migliori opportunità per chi tratta con l'estero o ha in progetto un trasferimento a breve. A darvi una mano il sole entrato oggi stesso in gemelli, segno versatile, comunicativo e dinamico, ritratto del lavoratore perfetto, nato per vincere. Meglio ancora gli studi, con un'interrogazione strabiliante raggiungete finalmente la sufficienza, dribblando il pericolo di un debito. I veri protagonisti sono i sentimenti, una persona lontana vi pensa, e magari vi rimpiange, in un semplice messaggino vedete un ponte di arcobaleno, indispensabile per ritrovarvi. Trionfo, gioia, felicità e realizzazione. In amore è il successo pieno, l'appagamento di sentimenti e desideri, la riuscita di progetti. Amore solido che presto potrebbe sfociare in un fidanzamento importante, in una convivenza, in un matrimonio. Potrebbero arrivare, da un momento all'altro, notizie piacevoli, importanti, che annunciano il successo. Decisioni importanti in ogni campo, ottime prospettive sul lavoro, negli impegni, tra amici. I single potrebbero incontrare l'anima gemella o trarre successo pieno dai loro nuovi incontri. Le energie non vi mancano e non potete farvi scoraggiare proprio ora dai discorsi pessimisti, alimentate dunque il progetto che vi sta a cuore e fatelo vostro profondendo energie fresce e soprattutto maggior impegno. Cercate di opporre buone maniere e gentilezza a chi oggi vorrebbe rovinarvi la giornata muovendovi appunti e rimproveri. In fondo le persone, spesso, si approfittano di voi e non conoscono il limite. L'amore oggi si propone con qualche piccola tensione dovuta a una latente gelosia, potreste ricevere anche qualche regalo ma la vostra gelosia si farà sentire più del solito. Giornata in cui gelosia e risentimento viaggeranno a braccetto, vedrete pericoli per il vostro partner ovunque e rischierete di rovinargli la giornata. Fate attenzione. Sarai scontroso, suscettibile e troppo frettoloso. Evita di offendere anche involontariamente, oggi sarai tentato di farlo. Abbiate sempre il coraggio delle vostre idee, non è nascondendovi che risolverete quel problema che sta a cuore. In amore fate oggi voi il primo passo. Oggi vi sentirete pigri e distratti, colpa dello stress accumulato nei giorni scorsi. Fate qualcosa di insolito e cercate di risalire la china. Pigrizia. Energie basse. Attenzione ai raffreddori. Copriti bene. Stai lontano da bugie e pettegolezzi. Potrebbero danneggiarti. Lettere, telefonate, notizie, da persone che abitano lontano. Non vorrai rimanere solo. Supererai un po' i limiti nel bere e nel mangiare. Quadro di primavera rallegrato da ottime posizioni planetarie. In particolare risplende la buona posizione di Plutone combinata con quella del Sole e della Luna, tutti in due segni vostri alleati nello schema zodiacale. Il Sole in particolare entra nel segno dei gemelli a voi molto propizio, dalla metà della giornata per rivitalizzarsi fino al 20 giugno prossimo. L'energia attiva, la voglia di affermarvi e di essere protagonisti, si lega molto bene a un fascino accattivante che, davvero, oggi, non manca un colpo. Un pochino penalizzato soltanto il settore familiare per via di Marte nel segno della riete, ma solo se appartenete alla seconda decade, a suggerirvi di non trascurare gli affetti che dimorano nel nido e che sono, sapete, un punto fermo nella vostra vita. Luna protagonista nel vostro segno, sempre armoniosa, elegante, raffinata, una vera maestra di pacifismo e diplomazia. Sentitevi fortunati, doppiamente stamani che oltre all'appoggio della bianca signora, quintessenza della femminilità, ricevete anche quello del Sole, che proprio oggi passa in gemelli, segno d'aria intrigono al vostro. Amore ed Eros. Ipersensibili ai messaggi del cuore, vivete sospesi a mezz'aria, sognando un amore da film. Belle conferme vi arrivano dall'amicizia, stabile e solidale anche a distanza, anche se i sentimenti non sono ancora riaffiorati in superficie, realizzate di amare qualcuno dal vostro atteggiamento nei confronti dei suoi spigoli, che trovate assolutamente deliziosi. Il vero amore è quando si accetta l'altro senza tentare di cambiarlo. Un'intesa a tutto tondo vi aspetta con la persona che avete scelto di avere accanto. Dalla comunanza degli interessi e delle idee, all'alchimia dei sensi, dalla condivisione del piacere nelle medesime amicizie, alla capacità di risolvere le incombenze quotidiane. Il Sole in gemelli in serata spiana i vostri passi. Lavoro e denaro. Tutti si aspettano qualcosa da voi, recriminando se non li accontentate subito, colpa vostra, avendoli abituati così bene ora non accettano un no. Alla grande studi e affari, se siete in trasferta poi questa giornata getterà basi fondamentali per successi futuri, sicuri di voi stessi e dei vostri credo sarete aperti al dialogo, ma fondamentalmente non cambierete idea, niente trasformazioni radicali, caso mai qualche intelligente aggiustamento. Una notevole sveltezza e rapidità dei riflessi pronti vi accompagna in qualsiasi attività siate inseriti anche oggi, sia essa dipendente o libera, manuale o intellettuale. Il Sole è il vostro benefattore e vi apre a una fervida e decisa efficienza, in special modo se festeggiate il compleanno dal 23 al 27 di settembre. Benessere. Teneri e arrendevoli come un budino, ma basta un momento di rabbia o un sentimento di rivalza per rovinare questo capolavoro, dolcissimo in superficie ma amarognolo sul fondo. Emicrania e digestione sono legati a doppio filo. Denaro. La Luna nel vostro segno vi fa essere ricettivi nel decidere quali numeri possano creare una combinazione vincente all'otto. Per lei, nuove conoscenze online o attraverso il solito giro, se qualcuno vi colpisce non fatevelo scappare, approfondite. Per lui, comunicazioni dall'estero, la vostra proposta è stata accettata. Buone prospettive anche per studi e affari, non resta che prenotarvi un volo. Colore delle emozioni, indaco. Barometro dell'umore, soleggiato. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 10, finanze, 10, benessere, 10. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.